Benissimi amici della pogonotomia, del bel vivere e oggi soprattutto dell'orologeria buon mercoledì e appunto oggi proviamo a parlare mercoledì di cose non di rasatura ecco solo una premessa, grazie alle vostre donazioni ho raggiunto una cifra alla quale ho aggiunto qualcosina per comprare, acquistare il set che ha vinto il concorso che è questo Barry Sterelman Gothic Fougere che proveremo domenica in rasatura ora grazie per chi ha contribuito, il secondo mi pare che sia arrivato uno Stirling se le donazioni sono sempre aperte, chi vuole contribuire lo può fare poi in un secondo momento quando avremo un'esposizione più materiale valuteremo come poterlo magari mettere in palio in qualche modo proprio perché non è in interesse quello di riempirmi i saponi ecco devo dirvi già che dalle prime impressioni lo utilizzerò la prima volta con voi ma non mi fa impazzire però vediamo come sarà insomma mi è stato chiesto che l'ho acquistato ma parliamo di orologeria, di un tema che è molto divisivo e soprattutto che riempie molto la bocca di tante persone che secondo me di orologeria, non voglio usare parole come dire troppo pesanti ma secondo me non è che capiscano poco ma sono un po' influenzate da quella che è la vulgata cioè il quarzo è un orologio da disprezzare, è un orologio, è un orologio al quarzo, è un orologio come alcuni dicono a batteria, è un orologio da disprezzare beh assolutamente secondo me la risposta è no e vi spiego per quale motivo allora partiamo da una cosa presupposto l'orologio nasce dai primi, dai primi meridiane voglio dire come strumento per calcolare il tempo nella maniera più precisa quando ovviamente man mano che la tecnologia si evolve adesso faccio una velocissima storia inizia a intervenire la meccanica inizia a intervenire la miniaturizzazione della meccanica non gli orologi portati i primi, parliamo di orologi centinaia di anni fa erano tradi imprecisi come precisione da avere soltanto erano cipolloni da avere soltanto la lancetta delle ore cioè dare un'indicazione di massima ecco per dire quindi poi col tempo sempre più come dire la tecnologia poi arrivano le rivoluzioni come quella fatta da Breguet insomma grandi orologiai ancora oggi c'è un marchio non Breguet andatevi a vedere il Breguet Maria Antonietta che è un capolavoro di orologeria mondiale con le sue complicazioni ma l'orologio meccanico non è mai stato precisissimo preciso ma non precisissimo considerate che ancora oggi gli orologi certificati coronografici quindi proprio quelli hanno una tolleranza di 5 più o meno 5 secondi al giorno credo quindi cosa vuol dire? vuol dire che sono che poi è di più perché io in realtà tante volte di più in realtà ne ho certificati che fanno anche 6, 7, 8 è come ne ho anche che ne fanno di meno però contiamo 5 secondi, 4 secondi e alla fine vengono fuori qualche minuto al mese ora contate che ora facciamo una media facciamo finta di avere un orologio precisissimo che poi non è mai così in realtà però facciamo finta facciamo un calcolo io ho una calcolatrice facciamo un orologio che prende magari o perde se non lo so cosa possiamo mettere 4 secondi al giorno comunque che è già un orologio eccezionale e ripeto non è così facile stiamo parlando di 120 secondi al mese cioè 2 minuti al mese che per un anno sono esattamente quindi è facilissimo 24 minuti all'anno di mezz'ora all'anno per le mezz'ora all'anno ora un quarzo un quarzo di bassa qualità di bassa qualità perché sono varie qualità di quarzo perde o prende di solito 11 secondi in media quindi in media vuol dire che ne prende meno cioè facciamo 8 8 secondi al mese vuol dire per 12 vuol dire 96 secondi all'anno quindi praticamente un orologio che prende o perde un minuto e mezzo all'anno quindi cosa succede il quarzo è più preciso piaccia o non piaccia è più preciso ora perché nasce il quarzo il quarzo nasce quando negli anni i primi quarti sono negli anni 30 addirittura ma nasce per un'esigenza di precisione cioè la ricerca all'epoca secondo me l'orologio era un oggetto questo è un'omega dynamic crono degli anni 90 uno dei pochi crono omega che non è diciamo spin master prodotto da pochissimi anni comunque è automatico quindi non è al quarzo nasce l'esigenza del quarzo non me l'ha dato del quarzo di qualcosa di preciso di molto preciso tanto che i primi orologi elettrici non sono al quarzo Elvis Presley aveva un orologio elettrico che non era al quarzo nasce una tecnologia il diapason ad esempio che c'è ancora io ne ho uno in collezione un diapason della zenith molto delicato come meccanismo tra l'altro quindi trovarne funzionanti è miracoloso però non è così preciso a un certo punto si arriva agli anni 60-70 e io in particolare la Seiko i giapponesi arrivano al quarzo arrivano al quarzo e i primi quarzi attenzione adesso oggi ci dicono ah ma quello è il quarzo no i primi quarzi io qua ho forse trovato una foto che indica vediamo se c'è se l'ho registrata bene una pubblicità dell'epoca perché è importante anche non vedere poi come le cose abbiano ecco la qua l'ho trovata allora vedete questa è una pubblicità degli anni 70 se non so se si vede bene qui abbiamo un Omega Speedmaster in particolare ST1450022 attenzione oggi un orologio del genere batte una decina di migliaia di euro automatico che costava 158 mi pare dollari o sterline di fianco abbiamo un Seiko al quarzo in particolare in particolare in questo caso una versione con il led ve lo faccio che si veda bene e ne costa 165 quindi costava di più erano quarzi chiamiamoli artigianali e non c'era questo pregiudizio perché in realtà cosa succede come funziona il quarzo funziona con l'elettricità quindi è diventato naturale l'elettricità e un cristallo di quarzo che vibra più naturale di un cristallo cosa c'è niente in particolare i primi erano addirittura tagliati a mano si dice chiaro che ci vuole una batteria perché chiaro che un accumulatore per l'elettricità ci vuole però è evidente che non è che stiamo parlando di qualcosa di cioè che viene da Marte voglio dire e così anche il quarzo è di naturale consideriamo che da quando io ho letto viene introdotto il quarzo negli anni 70 più o meno e viene dato in dotazione a certe ferrovie di alcuni stati gli incidenti diminuiscono in maniera clamorosa perché lì basta proprio uno scarto di pochi secondi ora cosa sto dicendovi non è che un orologio meccanico abbia dei problemi di precisione perché se è un orologio meccanico ma anche quelli con calibri non particolarmente costosi viene ben regolato in particolare per chi è capace sul proprio polso io lo faccio io ottengo scarti di uno o due secondi al giorno ecco da dei seico che hanno meccanismi considerati basici ma è evidente che il quarzo è una cosa di molto più performante a livello di precisione quello che il collezionista l'appassionante dice ma il fascino del meccanismo capito certamente però questo giustifica una differenza di prezzo così alta giustifica il fatto che un quarzo può costare 300-400 euro è un meccanico che può costare 10.000 e questa è la domanda che mi faccio e io dico no perché l'orologio non è ma poi anche fosse meccanismo cioè noi stiamo parlando di retro se vogliamo cioè stiamo rifiutando poi lo so che oggi mi viene a dire e ma no ma se tu vuoi vedere l'ora guardi l'iPhone guardi il telefonino guardi qualsiasi cosa l'ora non c'è più bisogno di aver l'ora precisa al polso ma io che sarò non sarò vecchio ma non lo so ho ancora il vizio di guardare l'ora al polso e poi lo so anch'io che da collezionista ne cambio ne cambio uno in due giorni quindi è sempre è sempre come dire in tiro non sgarra ma uno che decide di conoscere un orologio e tiene sempre quello potrebbe avere anche il problema di ogni settimana doverse riassettare stupidaggine ripeto io non ho niente ripeto anzi apprezzo moltissimo nelle mie collezioni ci sono moltissimi orologi orologi anzi la qualsiasi totalità sono orologi meccanici automatici anzi automatici più che meccanici quindi non è che io sia un quartista però nemmeno disprezzo l'orologio al quarto cosa dicono intanto facciamo una piccola panoramica venendo di stare in tempi ristretti diciamo nei 15-20 minuti allora abbiamo il quarzo tradizionale questo qua è del 79 è un grande quarzo questo qua questo è un king vediamo se è giusto il lato questo è un king seico un king seico del 79 e quarzo uno dei quarzi più precisi che ci sono che seico mi ha mai prodotto vedete questo quadrante rosa molto delicato e notete una cosa più particolare che è la cosa che molti contestano la lancetta che scatta si chiama secondo morto cioè la lancetta scatta ogni secondo in un automatico in un automatico come ad esempio questo seico come ad esempio questo seico mass che vi ho già fatto vedere altre volte nuovo diciamo automatico vedete che la lancetta è fluida e molti dicono io la voglio così la voglio fluida non la voglio che scatti no vedete la differenza il quarzo scatta la lancetta no scusate ho problemi di orientamento il quarzo oddio il quarzo scatta in uno storto il quarzo scatta no è incredibile è incredibile che non riesco a mettere dritto questo è che giro l'altro è un deficiente il quarzo scatta e così è giusto il quarzo scatta e l'automatico non scatta vedete che è fluido molti dicono è come questo la fastidio lo scatto e beh ci viene incontro ad esempio Bulova guardate questo è un nuovissimo Marine Star che fa quarzi Bulova fa quarzi di azienda storica oggi in Manna Citizen guardate questo è un quarzo a leggete un po' se riuscite questo è un quarzo che viaggia tipo a 262 Hz contro i 30 Hz di un quarzo normale guardate la lancetta come va la molto più fluida dell'automatico di questo automatico qua ma perché voi mi chiederete non lo fanno tutti vedete questo è un quarzo è un quarzo se io vado in giro vedo uno che non lo giro di genere pensi automatico perché e questo è precisissimo questo sgarra neanche un minuto all'anno neanche mezzo minuto all'anno perché consuma più batteria attenzione a chi dice è però il secondo che è morto il secondo è morto è una complicazione che negli anni passati veniva ricercata negli orologi meccanici quindi veniva inserita negli orologi meccanici proprio per avere più precisione perché lo scatto ti dà la precisione la fluidità te ne dà di meno a livello mentale quindi oggi cosa abbiamo abbiamo un mercato che mentre cosa è successo mentre gli anni 70 arriva il quarzo e fa incetta del mercato cioè praticamente distrugge l'orologia tradizionale tanto che molte case orologiaie orologiere chiudono o vanno in crisi dopo un'operazione secondo me questa è la mia opinione di marketing eccezionale del gruppo Swatch che dimostra attraverso lo Swatch il valore di un meccanismo al quarzo che è basso è vero in pratica che dipende ma comunque è basso ma non pensiate che i meccanismi automatici siano così tanto più cari produrli cioè un conto è un orologio da 200 mila euro 100 mila euro con il meccanismo fatto a mano dall'artigiano l'orologio da 2 milioni di euro ce n'è un conto sono gli orologi ma anche da cifre importantissime che sono industriali quindi attenzione cioè non è che il quarzo sia sì certo è un circuito stampato con una batteria e con un cristalletto di quarzo non è riparabile non è vero è riparabilissimo chiaro dipende anche da chi trovi ma è riparabilissimo è preferibile il video di fascino l'automatico ma certamente sì io ho il posto in automatico però buttare tutta questa curata del termine merda sul quarzo è sbagliato perché negli anni 70 fino a metà degli anni 80 ha spopolato e quello che provieneva di più tutti volevano un quarzo perché volevano la precisione non volevano avere orologi che andavano avanti indietro e poi attenzione i costi cioè al netto del costo dell'orologio l'orologio automatico ogni 2 3 4 5 anni diciamo 5 anni va revisionato e una revisione di un'orologio del genere ad esempio di un Omega può costare anche 6-800 euro sperando che non siano pezzi rotti quindi è anche una questione di costi no? quarzo cioè voglio dire finché va e non c'è motivo perché si fulmini molti dicono ah devo un po' muore io ho di là degli diswatch che hanno 40 anni ma hanno benissimo quindi è più facile muore come muore anche un automatico che non ha i pezzi di ricambio disponibili non sono tutti Rolex un miner che ovviamente sono pezzi molto diffusi molto richiesti quindi hanno tutti i pezzi di disposizione no sono anche i orologi che non sono più prodotti e non c'è più il ricambio quindi aspettare di trovare una carcassa di prenderla quindi oggi oggi per ragioni di come si può dire ecologia ma io vi dico già ni non c'è diciamo si tende a non usare più il quarzo classico cioè quello con la pila qua c'è proprio lo spazio vedete per la pila classico classico quarzone con la pila si gira c'è la pila ma si tende a usare il solare ad esempio questo qua è un seiko arni si chiama arni perché è quello usato da è la redizione di curiosità Schwarzenegger nel film commando vedete che scatta la lancetta è solare cioè praticamente questo qua con la luce del sole si ricarica la carica dura mi pare sei mesi una cosa impressionante però non pensiate che sia la panacea perché dopo dieci anni l'accumulatore va si scarica e va cambiato comunque sempre che si trovi ancora sperando io penso di sì ma comunque va cambiato e comunque va smaltito quindi in realtà tutte queste cioè anche la batteria di un quarzo se non è un quarzo ad alta frequenza che dura una batteria dura poco qua dura due anni due anni più o meno quattro anni te li fa quindi alla fine con due batterie ti fai un accumulatore quindi diciamo che ora che dire per concludere il 99% degli appassionati dirà ah no ma io i quarzi non ne voglio neanche vedere automatici tutta la vita non si discute il fascino la storia il meccanismo benissimo giusto giusto la penso anch'io così sono affascinato agli automatici ho un automatico al polso oggi in particolare ma ne ho in collezione ovviamente il 99% non è no c'è un 95% ma attenzione a denigrare i quarzi perché ci sono quarzi di ottima qualità e quello che non è stato attenti oggi oggi è che mentre negli anni 70 il quarzo fino a un certo punto è stato di alta qualità poi è entrato il modo di industrializzarlo di produrlo in maniera massiva di risparmiare e per arrivare poi negli anni 90 ad avere dei quarzi di bassa qualità ecco un buon quarzo se uno vuole avere un orologio preciso al polso è da valutare è da valutare non ho risolto la nostra questione ma ho messo un punto secondo me che è importante che è la mia parere e la mia opinione non denigriamo non scartiamo non buttiamo sterco sul quarzo perché il quarzo è un'evoluzione tecnologica dell'automatico e del meccanico all'inizio costava di più era più voluto il mercato lo voleva ha passato anni di gloria negli anni 70 negli anni 80 per poi essere come dire risoppietta dall'automatico meccanico per motivi diciamo quasi se vogliamo nostalgici ecco diciamo così quindi è giusto valutare se uno per esempio vuole avere un orologio preciso al polso anche perché no un orologio al quarzo forse è meglio un orologio al quarzo di ottima qualità di buona qualità anche che un orologio automatico magari prodotto in paesi strani che insomma messo su con lo sfuto quindi attenzione anche come fate i vostri acquisti grazie a tutti buon mercoledì sotto trovate tutte le indicazioni per chi volesse contribuire per chi volesse fare acquisti sui nostri store convenzionati col canale e in questo caso non buona verba a tutti ma buon'ora a tutti non lo so buona serata arrivederci arrivederci grazie a tutti